Oh, mi si sono drizzati i peli sul collo! Oh, lo sai che cosa significa? Che è successo qualcosa al nonno? No, no, no! Ho appena parlato con Jeb. Si tratta di qualcos'altro. Oh, tu pensi che qualcuno in casa trammi qualcosa di brutto? Ma, Dier, non possono essere i ragazzi. Stanno lavando i piatti come hai detto loro di fare. Ma qualcuno sta tramando qualcosa. Forse i tuoi peli del collo si sbagliano stavolta. Sì, può darsi. Si dice che quando una entra, entra nei 40. Sì, ecco, alcune cose iniziano a cambiare. Oh, beh, non saprei. Coco, per favore!